C'è una novità sul fronte dei monoclonali? Sì, in effetti noi abbiamo parlato ad oggi dei monoclonali come terapia preventiva per coloro che si erano infettati e che magari avevano anche delle malattie che li potevano predisporre a complicanze correlate al Covid. Oggi abbiamo la possibilità di somministrare un certo tipo di anticorpi monoclonali per pazienti ovviamente molto fragili, prevalentemente persone immunodepresse e che non hanno risposto alle vaccinazioni per il Covid. Quindi queste persone che sono seguite da specialisti tipo oncologi, ematologi, reumatologi e quant'altro devono fare comunque un test degli anticorpi anti-SARS-CoV ovviamente avendo fatto la vaccinazione e se non c'è stata risposta ovviamente gli specialisti contatteranno noi per la somministrazione di questi monoclonali che li proteggeranno nell'80% dei casi per circa 6 mesi. Quindi direi come una vaccinazione efficace. Avete già effettuato alcune somministrazioni? Abbiamo già iniziato la scorsa settimana, stiamo facendo pazienti onco-ematologici che ovviamente a causa delle malattie di base ma anche delle terapie immunosoppressive importanti che hanno fatto, che stanno facendo, non hanno risposto alla vaccinazione.